18 a Magre e altri 18 a Malo sono i numeri di alloggi di edilizia sociale che l'Ater di Vicenza realizzerà in provincia. Un intervento inserito nel piano urbanistico attuattivo riservato all'edilizia sociale pubblica. Il primo a Magre è uno dei due stralci ed elevati standard ambientali di risparmio energetico e rispondenti ai requisiti antisismici, il tutto nel rispetto dei limiti di costo propri dell'edilizia residenziale pubblica. Alloggi che saranno pronti a fine 2020, costo dell'intervento 2.400.000 euro. Altri 18 mini alloggi realizzati in tre piani fuori terra e pronti ad ottobre 2020 dal costo di oltre un milione e mezzo saranno realizzati a Malo. Un investimento importante in un periodo in cui gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono sotto i riflettori dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento regionale sulla valutazione degli aventi diritto. Nel Vicentino gli assegnatari sono 2.693, di questi attualmente soggetti a decadenza sarebbero 438. Nuove costruzioni che vogliono però dare risposta e comunque ad una necessità del territorio fatta di molti anziani e giovani coppie che per colpa dei soliti furbetti dovranno far fronte a nuovi canoni d'affitto.